Durante un matrimonio c'è lo sposo sordo che si sta per sposare la moglie, arriva il prete fa tutta la cerimonia, gli fa leggere il foglietto delle frasi, quelle del rito, a un certo punto gli fa così, le fedi e quello sordo fa le fedi, le fedi, le fedi, le fedi, questo è niente, a un certo punto il prete mi fai capire fa, e lo sposo guarda fa, ah stanotte!